Capanno rivà in controtendenza rispetto alla provincia e nel 2012 aumenta il numero di turisti facendo registrare un brillante più 6,3%. Sono cresciuti i giorni di permanenza degli italiani ma soprattutto degli stranieri più 6,8%. Fra questi ultimi a farla da padroni sono stati i tedeschi con un 38% in più, gli olandesi più 23% e gli statunitensi più 36%. Basti pensare che i cittadini di queste tre nazionalità da soli hanno ricoperto il 50% delle presenze degli stranieri e il 32% di quelle totali, italiani compresi. Stabili sono state le presenze dei francesi, mentre si è avuto un lieve calo per quanto riguarda i cittadini inglesi, meno 21%. Gli incrementi maggiori sono stati registrati dai turisti della Repubblica Ceca, dell'Australia e del Brasile. Si conferma quindi il trend positivo, che negli ultimi otto anni, a partire dal 2005, ha fatto registrare un aumento del 63% delle presenze sul territorio capannorese. Per quanto riguarda gli arrivi a Capanno nel 2012, questi sono scesi passando dai 25.516 ai 23.430. Il calo degli arrivi è interessato in modo generalizzato tutto il territorio provinciale ed è con tutta probabilità, frutto della crisi economica, che sta incidendo anche sulle vacanze di italiani e stranieri. I mesi in cui nel 2012 ci sono registrate più presenze sono luglio e agosto, bene anche i mesi di aprile e maggio, che hanno fatto rilevare un consistente aumento di turisti rispetto all'anno precedente, facendo registrare rispettivamente un più 18% e più 44%. Soddisfatto l'assessore Maurizio Vellutini, che dopo aver creato l'osservatorio turistico, composto dai rappresentanti e degli operatori, promette ora un ulteriore salto di qualità alla programmazione degli eventi sul territorio, che, dice, rappresenta un fattore chiave per aumentare la capacità di promozione da parte delle categorie interessate.